Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro episodio di questo dossier. Come promesso su Facebook ho caricato delle immagini che testimoniano questa vacanza sul pianeta Venere da parte di Cato e dei suoi amici. In questo video vi farò vedere la preparazione della prima immagine, praticamente sempre realizzata con il compositing di Blender, per dare un aspetto ancora più realistico all'immagine. E come potete vedere ho giocato anche sia con gli effetti di guce e sia con il tipo di atmosfera. Come potete vedere questa è la mia immagine preferita e non a caso l'ho caricata sullo desktop del mio computer. E d'altro canto qua come potete vedere ci sono tutte le foto, tutte le immagini che poi ho messo su Facebook. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima puntata.